Oggi vi mostreremo un esempio di buona scuola di nome di fatto. Siamo nel liceo scientifico Maria Curie di Giulianova, dove siamo venuti ad intervistare gli studenti e professori delle classi 4a G e 4a F, che sono di ritorno da Roma, dove hanno partecipato alla Fiera Internazionale delle Invenzioni Tecnologiche con un loro prototipo. Com'è nato questo progetto? Il progetto è stato svolto durante un laboratorio di alternanza scuola-lavoro nell'anno 2015-2016 e con volto due classi, 3a G e 3a F. Durante il laboratorio abbiamo realizzato un modellino tattile del Duomo di Giulianova, che è accessibile anche ai non vedenti e permette di avere delle informazioni storico-artistiche e di natura storica sul monumento. Abbiamo costruito questo prototipo principalmente per permettere alle persone non vedenti non solo di capire come è fatto il monumento toccandolo, ma anche di avere la spiegazione istantanea delle parti più importanti. Infatti sul progetto ci sono delle parti in nero e sono interattive e toccandole si ha la spiegazione. Questo progetto avrà una continuità nell'anno scolastico in corso. Il progetto che è coinvolto come parte attiva degli studenti sia nella realizzazione del dispositivo che nella realizzazione dei contenuti multimediali ha appassionato i ragazzi, li ha coinvolti emotivamente, li ha interessati e motivati e proprio per questo motivo ha diritto e destinato ad avere vita futura e ha regalato loro anche grande soddisfazione. Il fatto di essere stati selezionati tra i 55 progetti innovativi da portare al Maker Faire di Roma è stato sicuramente motivo di vanto per loro ragazzi ma anche per tutto l'istituto.